eccolo qua buongiorno signori e signore ma pure camminando dai noi oggi 19 agosto 2017 stiamo attraversando il vero ponte tibetano come una passeggiata perché noi noi siamo noi noi di tartufa e dintorno siamo solo noi prima di noi c'è solo dio dopo di noi non c'è più nessuno grazie